La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 800 articoli di moda, tra cui borse contraffatte, per un valore di circa 60.000 euro. Le fiamme gialle hanno individuato la ditta, gestita da un cittadino cinese che commercializzava borse contraffatte riportanti un marchio famoso, ma senza i certificati che garantiscano l'originalità e la qualità dei prodotti. Tra gli articoli ritirati dal mercato anche astucci, materiale sintetico, che venivano proposti agli ignari acquirenti quali prodotti di vera pelle. Il titolare della ditta è stato segnalato alla Procura della Repubblica per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per frode nell'esercizio del commercio.